Aspetta! 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 Bordo di una delle macchine che ho sempre preferito, Lotus Elise Serie 1, pochissimi esemplari e purtroppo mi sa che presto se ne andrà, non lo so, piangerò probabilmente perché è uno spettacolo. Qua oggi siamo, non so, il 13 oggi, domenica 13 dicembre, siamo scoperti come vedete, una figata, un po' di riscaldamento che ti rincuora e che dire, macchina giocattolo ma questa è la vera guida, per la gioia di Greg e di quelli come noi. Ciao ragazzi, buona giornata e se avete qualche soldo che vi avanza la mettiamo in vendita, spero che non la comprino tutti subito oggi perché ovviamente fa parte un po' della, una delle mie passioni e però... Grazie a tutti!